Un giorno, io prendo un macchiato e un cornetto. Tu prendi qualcosa da mangiare? Sì, anch'io ho un po' di fame. Vediamo, è un panino. Un caffè macchiato, un cornetto alla crema e... Un panino con prosciutto crudo e mozzarella. Un caffè e un'acqua piccola offro io. Grazie, figurati, quante? 6,90 euro. Il caffè lungo, per favore. Buono, allora, con Bruno tutto bene, benissimo. E tu? Cosa io? Novità? Veramente no. E' un periodo abbastanza tranquillo. E Gianni? Gianni, Gianni cosa? Ok, è simpatico, ma tutto qui. Ma perché chiedi? Non so. Secondo me, per lui, non è così. Dai, no, è impossibile. Pronto? Oh, ciao. Bene, grazie. Domani? Finisco alle 8. Certo, perché no? Va bene. Ciao, a domani. Gianni, no.